Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi ragazzi parleremo della parola DCS, del metodo DCS, dell'ipnosi DCS. Un signore mi ha scritto su YouTube, ma che significa DCS dottore? Perché per me mi dà simulatore di volo. Beh, l'ipnosi che ti fa volare online. Mi è venuta così perché nulla succede per caso. In realtà DCS sta per dottor Claudio Saracino, la mia persona, bravissimo, hai capito bene. E inoltre ha un altro significato che vi spiegherò più avanti, perché adesso è troppo presto per essere capito. Ok, non l'ho pensato, è uscito tutto naturale, spontaneo, però se rifletto, anche io ho fatto una ricerca sulla parola DCS, mi è uscito il volo, i caccia, i jet, gli aerei, che più ne ha più ne metto, o anche questo signore che dice il simulatore di volo. E se uno riflette è veramente l'ipnosi, qualcosa, una tecnica che ti fa volare. Ma non volare a livello irreale, a livello concreto, nella mente, nel corpo, nella vita, nei comportamenti. E questa è la cosa bella, perché un altro signore ha scritto anni fa, sì ma l'ipnosi ha soltanto un ruolo psicologico, non può agire sul diabete, non può agire sul corpo, niente di più errato, di più sbagliato, non può agire sui comportamenti, sulle azioni, niente di più falso ragazzi. L'ipnosi è un rilassamento della mente e del corpo dove tramite suggestioni, tradotto suggestive significa parole, si cambiano le immagini da negativa a positiva e tu puoi agire sul corpo, sulla mente e sulla tua esistenza, in tutti i campi che tu ci credono. Ricordati che la mente ha poteri che tu neanche immagini. Secondo te le malattie, dal francese malattie, il malattie, il malattietto, nascono così per forza maggiore, a causa dell'universo, di qualche forza invisibile o a causa dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, di tutto ciò che ci gira in testa e di ciò che ci instillano nella testa, anche senza la tua responsabilità, anche se il luogo in cui nasce è la tua testa, il tuo subconscio. Ma non è detto che sei stato tuo, la causa che ha creato quel bisogno inesistente, quel problema inesistente, che chiama e grida vendetta o chiama e grida attenzione o una risposta uguale e contraria. Quindi la parola DCS, metodo DCS è un'ipnosi, è un metodo unico al mondo di ipnosi vera e professionale che ha molte caratteristiche diverse dall'ipnosi conformista e commerciale, una delle quali è che il sottoscritto è un esperto di ipnosi DCS online, ok? Io ipnotizzo online da circa dieci anni, come hanno insegnato a me la dottoressa Rina Brunini da Los Angeles Beverly Hills, da Hollywood, dove la dottoressa risiedeva, e rispetto a tutte le altre tipi di ipnosi che si vedono in giro, pur salvandone la bontà, nessuno vuole parlare male, in Italia e all'estero, questo metodo è l'unico che si presta all'ipnosi online, a casa tua, nella tua stanzetta, senza muoverti, ok? Ora, siccome l'ho sperimentato per dieci anni sulla mia persona, sui miei cari, su centinaia e centinaia di persone in Italia e all'estero, anche senza il loro consenso, purché uno dei loro cari ci tenesse a sollevare le sorti della persona cara, io avendo fatto tanti corsi nazionali e internazionali di ipnosi professionali certificati, chi più ne ha metto, ti posso garantire che quando ho incrociato, ho matchato, ho incontrato la dottoressa Rina Brunini da Hollywood, Beverly Hills, Los Angeles, online per mio padre, la mia vita è cambiata, è cambiata il livello di persona, è cambiata il livello di attività, perché io ho tanta attività in Italia e all'estero, è cambiata il livello di aiutare il prossimo, in maniera incredibile e il mio metodo ti consente di non mettere la famosa tuta, andare in giro, perdere tempo, farti prendere una barca di soldi e chi più ne ha più ne metta. Certo, adesso sono solo parole mie, però ti posso garantire che sono una persona accreditata, credibile o una mia realtà e se fai una ricerca troverai tutto su di me e tutto di più. Da circa 21 anni sono un imprenditore, un imprenditore che utilizza l'ipnosi di sé, ho iniziato da autodidatta e ipnotizzando tutti chiunque sulla spiaggia, dal mare ai ristoranti, mezzo la strada, in ufficio, collaboratori, dipendenti, rappresentanti, fornitori, chiedendo naturalmente il loro consenso, che più ne ha chi più ne metta. Ti posso garantire che io da scettico, da San Tommaso, se non tocco, se non vedo, se non credo, io ti posso assicurare che sono cambiato da così a così, ok? Fidati, funziona alla grande. Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi questo video con amici, parenti, perché può essere quel qui che gli fa cambiare la vita, e visita anche i miei perfetti Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino, e al prossimo video, un bacio e un abbraccio. Grazie a tutti.